Musica Allora Gianni Colacione dalla prima giornata del 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui all'Hotel Summit a Roma e siamo in compagnia di Angelo Bandinelli che è inutile presentare ulteriormente ovviamente e gli chiediamo ovviamente come prima domanda un pochino se il cosiddetto miracolo di Pannella di questi ultimi giorni cioè riguardante la partecipazione, l'incremento della partecipazione secondo lui si sia realizzato Mi pare che il congresso presenti un bel aspetto, non ci sono vuoti, è un congresso robusto non è un grandissimo congresso ma è un buon congresso, è un congresso robusto diciamo Pannella ha fatto il miracolo e perché no? Non sarebbe il primo Non è la prima volta E quindi anche questa volta grazie a Marco sicuramente ma grazie credo al lavoro anche dei dirigenti del partito e dei militanti anche che sono venuti, ho visto a parte quelli dall'estero che non conosco molto quelli che sono venuti dall'Italia sono un buon numero, un buon congresso Senti Angelo, anche se qui stiamo in un consenso che si dovrebbe interessare prettamente del transnazionale è evidente che tutti quanti coloro che abitano in Italia, gli ultimi provvedimenti grazie al nuovo governo Monti insomma fanno parte un po' della tematica politica e tu come pensi di commentarli? Ma guarda, il governo Monti è difficile giudicarlo perché è troppo presto l'impressione che quando Panebianco dice questo è un governo che ha operato il primo tempo ma il secondo tempo non sappiamo se verrà credo che Monti sia persona seria e che quel secondo tempo, quello delle liberalizzazioni e del guardarsi intorno diciamo più ampiamente verrà io ho preso come un sintomo buono il fatto che il ministro degli esteri è venuto al congresso qui ha parlato poco fa, ha ricordato tutto il percorso che lui conosce bene dei rapporti tra il governo italiano e l'Italia e la galassia radicale ha ricordato nessuno tocchi caino, ha ricordato la pena di morte, il non c'è pace senza giustizia cioè conosce bene la problematica radicale e ho l'impressione che su questo binario per quanto riguarda per esempio la questione delle mutilazioni genitali femminili o cose del genere il governo sarà un interlocutore buono, un interlocutore affidabile diciamo dell'iniziativa radicale il problema è se li consentiranno a Monti di muoversi e di andare avanti eccetera bisogna avere un po' di pazienza direi ma non sfiducia, ecco diciamo in questi giorni un pochino la fiducia in Monti si è allentata, le prime mosse, i primi provvedimenti hanno spaventato spaventato tutti, anche a me sul piano personale per esempio, però insomma dobbiamo lavorare credo che il partito radicale trasnazionale possa essere per Monti un punto di riferimento importante attraverso il ministro degli esteri ma non solo lui per dare, per il ministro della giustizia Pannella sta parlando con un grosso intervento in cui ha ricapitolato un po' tutta la vicenda radicale che sta puntando oltre che sulla faccenda Saddam Hussein, insomma quello che ha seguito Pannella ha ricordato che la regina Elisabetta recentemente ha un po' allontanato diciamo Blair dalla cerchia dei suoi interlocutori e quindi per essere in Inghilterra sono stati fatti pesanti per Blair quindi da una parte la faccenda Blair, Hussein che Pannella ha ripreso in questo discorso all'altro quello delle carcere e della giustizia come elemento fondamentale della costruzione diciamo di un ordine democratico e non solo per quello che riguarda l'Italia e quindi anche su questo sembra che il ministro della giustizia non sia pregiudizialmente ostile, non ha fatto molto fino adesso però è possibile che si apra anche lì un discorso. Il terzo punto su cui Marco sta puntando è quello dell'Europa e da buon spinelliano in fondo ancora dice che l'Europa bisogna un governo federale che risiede a Bruxelles eccetera e lì io guardo con qualche perplessità perché non perché non sia spinelliano ma perché temo che sia oramai quello un sogno più che una ipotesi o una probabilità. Comunque saranno nodi che il congresso deve sciogliere in questi tre giorni di dibattito credo che su questi temi ci sarà ampio modo di confrontarsi quindi vedremo cosa ci diranno i compagni venuti da fuori Italia, non direi non italiani diciamo, brutta questa espressione del congresso transnazionale e insomma vediamo che cosa potremo riuscire a mettere in atto compreso quella riforma statutaria di cui Marco ha dato neppure un accenno, ha dato un colpo di pennello da impressionista, bisogna parlare di questo, ancora non c'è nulla di concreto e staremo a vedere. Angelo tornando al discorso europeo, si parla penso ormai ancora sempre troppo tardi perché se ne parla sempre troppo tardi di una politica economica comune, ma io ti chiedo secondo te è possibile realizzare una politica economica comune quando non c'è un'unità politica? Ma perché lo chiedi a me? Io sono l'ultimo degli esperti che possa dire questo, anzi però che non sono nemmeno l'ultimo degli esperti in questo campo, no solo una cosa mi viene a dire, che non c'è bisogno che te lo dico io questo, oramai lo dico tutti, o dice Sarkozy, l'ha detto così tra i denti, la Merkel, mi pare perfino di inglesi, perfino Cameron si sta sbilanciando e poi nessuno fa niente, il problema è che loro dicono sì ci vorrebbe un governo europeo ma appena poi si guardano dietro si vedono che c'è i tedeschi, i francesi, gli italiani, ognuno di loro poi tira l'acqua al suo murino, quindi io vedo poco, si parla di una, adesso visto che l'Eurobondo non piace visto che c'è si parla per esempio di adesso di armonizzazione delle politiche fiscali e chi le farà? Un altro autore che ci metteranno? con roba del genere, cioè in realtà, come diciamo gli antichi, i crodus ixalta, qui devi saltare questo ostacolo, ma non lo vogliono saltare Poi sarebbe un po' il moloch delle sovranità nazionali? Certo, ma lì io in fondo qualche volta nel partito, in varie sedi, nella galassia ho fatto presente che secondo me è quello che manca per poter avere qualche ipotesi di successo, non probabilità ma per andare comunque avanti in quella strada e manca il soggetto politico che faccia queste cose manca il partito europeo, che abbia come punto di riferimento la costruzione delle istituzioni europee dal cittadino europeo, che non c'è, non c'è il cittadino europeo quando Spinelli volle fare la sua grande riforma e fece avanti, aveva il club del coccodrillo il coccodrillo era un ristorante dove si radunavano questi, 12 non so quanti erano che però per il tempo necessario lavoravano per fare proprio questo, il progetto unificante portare avanti il progetto unificante, questo soggetto politico manca e questo secondo me è il primo ostacolo da superare perché se non c'è qualcuno che spinge la carretta non cammina anche diciamo qualcuno che spinge come apporto politico intellettuale tra virgolette parlando e qui ritorno un pochino al discorso del PRT cioè questo organismo, questa organizzazione secondo te è sufficiente per dare questa spinta questa contributo? No, non è sufficiente, cioè intendiamoci, questo partito ha tutta la biblioteca mentale adeguata, capisci quando dico biblioteca mentale, adeguata all'obiettivo non so, su qualche sito internet qualche giorno fa qualcuno diceva abbiamo letto un documento che spiega come si fa l'Europa e io gli ho risposto, guarda quel documento c'è da sempre ed è il manifesto di Ventotene, è inutile cercare altri il problema è, quindi a questo livello non c'è nessun altro in Europa che abbia la stessa profondità di riflessione la stessa capacità di analisi, diciamo, no? che ha questo piccolo corpo collettivo che chiamiamo partito legale transnazionale non violento eccetera, dal punto di vista poi di spingere, beh sai, lì diciamo che siamo carenti siamo carenti in tutto perché non so quanti sono gli iscritti che ha ricordato Maurizio mi pare sui 1300 tu capisci che 2300 persone non sono ancora una massa critica adeguata a, che ti posso dire a fare un'azione iniziativa non violenta a Bruxelles o a Berlino, diciamo, ecco perché a questo bisognerebbe arrivare, ci parla tanto dell'indignatos perché 500 persone o 1000 persone occupano un parco al centro di New York e diventano un evento, no? e l'evento crea poi, mette in movimento altre cose gli indignatos, purtroppo, molto bravi nell'organizzare queste cose non hanno, si dice non hanno una leadership e già, non hanno una leadership ma non hanno nemmeno un obiettivo politico noi abbiamo una leadership, un obiettivo politico preciso non abbiamo la forza di occupare Place de Vosges per dire, a Parigi o a Berlino, che ne so, a Bruxelles la piazza della Concorda è un po' difficile, terravano gli aeroplani e starci lì una settimana di quelle tende e allora si comincia a creare l'evento e si comincia a fare i conti, chi ci sta, chi non ci sta questo non abbiamo questa forza e perciò siamo così indietro ringraziamo Angelo Bagninelli e poi gli diamo appuntamento, diciamo, a una successiva aggiornamento a qualche giorno dal congresso quando si è cominciato e ho il piacere di darti, di consegnarti il pass qui del congresso che mi hanno dato adesso è il tuo, è il tuo no, 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 è il tuo grazie, ti ringrazio perché altrimenti sei qui non ti avrebbero riconosciuto ho visto anche i poliziotti qui grazie ancora grazie a voi, buon lavoro grazie, grazie tante, ciao grazie a tutti